Calcolare il flusso del campo avventurale f di x, y, z pari a x, 0, 0, uscente dalla superficie S del tipo x, y, z appartenente ad R3, tale che z è minore o uguale di 4, x quadro più y quadro è minore o uguale di z, x quadro più y quadro è minore o uguale di 1. Problema molto interessante, del quale si può risolvere in vari modi. Dunque io vi fornisco come al solito una risoluzione, in molti esercizi lo vedrete e l'abbiamo già visto, io mi sono divertito a farvi vedere entrambe le risoluzioni, alcuni mi hanno chiesto ma nell'esame uno deve risolvere in due modi, ovviamente no se non viene richiesto, a volte in alcuni testi d'esame che tra l'altro risolverò, viene richiesto di calcolare il flusso uscente con la definizione minima diretta e anche verificando il risultato con il teorema della divergenza, che sono i due modi per calcolare il flusso uscente, l'abbiamo visto nel video di spiegazione. Ovviamente in questo caso io utilizzerei subito il teorema della divergenza, però prestando attenzione, perché utilizzo il teorema della divergenza? Perché ovviamente mi accorgo subito che la divergenza di f è 1. È invitante farlo, perché ricordo che la derivata della prima componente del campo vettorale fatta rispetto ad x, quindi questo caso è la derivata di x fatta rispetto ad x, che è 1, ma essendoci 0 come seconda componente, come terza componente, le altre derivate di f con 2 rispetto ad y più derivata di f con 3 rispetto ad z sono 0. Allora, l'unica cosa che però, dobbiamo guardare un attimo la superficie, che va a delimitare l'unione di due solidi, allora abbiamo a che fare con un cilindro quando z è compreso fra 1 e 4, poi abbiamo anche un paraboloide z uguale x quadro y quadro quando z è compreso fra 0 e 1, quindi nel momento in cui andiamo a calcolare il flusso di f attraverso, il flusso di f attraverso s, uscente da s, che ricordo che è il solito integrale di flusso, è stata da s di f scala n indesiva, dove con n sto indicando ovviamente al normale esterna, anche se qui se applico il teorema della differenza non è che mi interessi più di tanto, è la somma di due integrali di tripe, perché i soliti delimitati da s sono due, è l'unione di due soliti, uno ripeto è un cilindro, quando parliamo di z compreso fra 1 e 4, quindi l'altezza pari a 3, 4 meno 1, l'altro è un paraboloide, z uguale su un quadro quando z è compreso fra 0 e 1, quindi abbiamo un integrale di triplo, esteso a c, cioè il cilindro, di dx, di y, di z, e non conosciamo il volume di un cilindro, quindi questo si fa subito, più l'integrale di triplo, esteso a p, di che? di dx, di y, di z, e il volume del paraboloide, beh qua questo si può risolvere per strati, no? Allora, si esiste che si fa in pochi minuti, se uno conosce un po' di nozioni, di geometria nello spazio, no? molti mi hanno chiesto, ma che non fai un bel video, una bella tabella? Sì, ho intenzione di farla, una tabella riguardante le quadriche, la farò quando arriverò a trattare coniche e quadriche, in realtà non è neanche facile, non è che le coniche e le quadriche, non è che ci sono avuto le quadriche, sì, posso suscitare, no? Iperboloide, paraboloide, paraboloide ellittico, iperboloide, però non è facile dire questo associato a questa equazione, se avete visto gli innumerevoli video che abbiamo visto, avete imparato comunque a distinguere, a fare una differenza tra un cilindro, un cono, un paraboloide, che sono poi le figure un pochino più, abbiamo visto anche altre volte un elissoide, abbiamo visto l'elissoide, un nome un po' pericolo, la sfera, sono quelli, abbiamo visto una volta il toro, l'abbiamo anche preso per le corna, vi ricordate? in un video, sono diciamo le figure che capitano di più, ovviamente non potete mica immaginare che vedeva da disegnare, qualcuno magari, se si pensa, che io sia, siamo impazziti in 3D, magari poi quando la tecnologia arriverà, quando il canale diventerà un canale di livello galattico, vi farò vedere qua, alla mia destra, alla mia sinistra, vi mostrerò in 3D la figura, non ho questi mezzi, cioè io ho i mezzi, ma non ho intenzione di farlo in questo momento, non c'è nemmeno bisogno in realtà. Vi ricordo che il volume di un cilindro, non ricordate quanto vale? Per chi non lo sapesse, ed è grave che non lo sappia, è l'area di base per l'altezza, visto che parliamo di un cilindro che è compreso tra i piani z uguale 1 e z uguale 4, ovviamente l'altezza è 4,1 è 3, dal momento che stiamo parlando di area di base, che è πr4, parliamo dell'area del cerchio, della base, in questo caso stiamo parlando di un 3π, perché sarebbe π per 1 al quadrato, che è π, che moltiplicano 4,1, quindi è un 3π. Quindi abbiamo già trovato che questo, è 3π, qui integrando per strati, visto che nel caso del paraboloide, che è z uguale, il quadrato di y in un quadro, o la z è variante fra 0 e 1, integrava fra 0 e 1 di, integrava il doppio, se so, pz, di chi? Di dx, dy, tutto in dz, dunque pz è semplicemente x quadro più sull'un quadro uguale a z, quindi è un cerchio di centro d'origine e raggio pari a radice quadrata di z, quindi l'area di un cerchio di centro d'origine e raggio radice di z è π per z, quindi questo diventa un 3π. Se questi esercizi vi giungono nuovi, li trovate comunque nel capitolo riguardante l'integrale tripli, dove ho trattato anche queste cose, l'integrazione per strati, quindi c'è tutto, non manca nulla. Quindi, essendo questa l'area π con z, π con z è la integrale fra 0 e 1. Ormai siamo alle sgoccioli, sto lì raschiando, ma ormai, io questo mi entrare π greco, scrivo in alto, visto che π lo posso portare fuori, l'integrale fra 0 e 1 di z, in d z, l'integrale di z è z quadro mezzi, quindi π greco mezzi, per z quadro che vado a comprendere fra 0 e 1, ma 1 al quadrato è 1, meno 0 al quadrato è 0, meno 0 è 1, in definitiva, si trova quello che è il risultato di questo facile esercizio, che è appunto il risultato che ci fornisce il flusso, uscendo da s, dell'assegnato campo vettorale, dove in questo caso si poteva anche applicare la definizione, ma era troppo invitante andare a utilizzare il teorema della divergenza, che ci dà il risultato che 3π greco più π mezzi, e raccogliendo un π greco, viene 3π un mezzo, che vuol dire un 6 mezzi più un mezzo, quindi un 7π greco mezzi, 7π greco mezzi, rappresenta il flusso del campo vettorale assegnato f di x, y pari a x, 0, 0, uscente dalla superficie S che ci è stata data, eccola qua.